Tempo di mercatini di Natale in Alto Adige, di maxi afflusso di turisti che spesso se ne tornano a casa con il bagagliaio pieno di prodotti made in Sud Tirol. Parlando di alimentari e gastronomia, il più conosciuto nel resto d'Italia e forse nel mondo è lo Spec, che fa bella mostra di sé in molte delle casette dei Chris Kindlemark in tutto l'Alto Adige. Qui siamo a Merano e proprio a Merano c'è un produttore che ha fatto della qualità il suo concetto alla base della sua attività. È la macelleria Galloni il cui titolare, a beneficio di chi non conoscesse le fasi principali nella produzione dello Spec, ci fornisce qualche indicazione. Prima c'è la salatura, poi se dentro nella salazione lasciamo lì nelle vasche per due settimane, dopo di che viene messo sui carelli e lì inizia il vero processo di asciugatura, affumicatura e poi alla fine la stagionatura. Galloni fa parte del gruppo ristretto di 30 produttori che aderiscono al Consorzio Tutela Spec Alto Adige IGP, Indicazione Geografica Protetta, il che significa garantire dei criteri minimi nella produzione. IGP vuol dire Indicazione Geografica Protetta. Per avere questa sigla bisogna iscriversi nel Consorzio Tutelare dello Spec e mantenere dei processi che sono stati stabiliti da loro. Per esempio il minimo di stagionatura sono 20 settimane, che è quasi un equivalente di plus-minus 5 mesi. I criteri minimi sono però appunto minimi. I produttori si attengono ad essi ma fanno poi qualche passo ulteriore. Per noi personalmente non ci basta. Il nostro Spec lasciamo maturare o stagionare 24 settimane, che è quasi un mese in più. Al mercatino di Natale di Merano sono presenti alcuni dei più noti marchi in tema di commercializzazione di prodotti enogastronomici altoadesini. Siben Forcher rappresenta una garanzia. Accanto un altro produttore di Spec, la macelleria Kofler di Senale San Felice, anch'essa aderente al Consorzio Tutela Spec Alto Adige. Nello Spec IGP è un marchio geografico protetto, che è lo Spec City Roller Markenspec, viene controllato in molti criteri, che la lavorazione sia stata fatta in Alto Adige, le cosce, tutta la produzione molto più scelto nei criteri più severi e venga fatto tutto artigianalmente in Alto Adige.